Giulia Bignami, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare del suo, per raccontare del suo libro La Zattera Astronomica. Ecco già il titolo, ci porta a una grande, veramente una grande curiosità. Leggo, è nata a Milano, nel 90, figlia di due astrofisici Giovanni Bignami e Patrizia Caraveo e dopo la laurea in chimica ha conseguito il dottorato all'Università di St. Andrews in Scozia e si è trasferita a Edimburgo, dove vive e lavora come ricercatrice clinica. Penso da dove ci sta ascoltando, vero Giulia Bignami? Sì, 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 sono qui a Edimburgo. E che giornata è oggi a Edimburgo? Direi grigia tipicamente scozzese. E come trascorre il primo maggio? Ma in realtà come qualsiasi, qui non ci sono particolari vacanze, quindi per me un po' un qualsiasi weekend in questo, e quindi semplicemente leggerò probabilmente, sarò tranquilla a casa. Ebbene, questo è già un bel modo di trascorrere, di trascorrere il primo di maggio. Ma adesso noi andiamo a prendere questa zattera. Come ci possiamo chiedere, ma come farà una zattera a portarci nel cosmo o nello spazio? Chi lo sa? Lo scopriremo forse, ma non del tutto. Perché nelle nostre conversazioni Giulia Bignami andiamo per suggestioni senza svelare più di tanto i libri che andiamo raccontando qui nel posto delle parole. Ma c'è l'irriverente, veramente irriverente Massimiliano Parente, che continua nella sua irriverenza molto simpatica. Io non ho mai amato le prefazioni. In genere le salto e vi invito a farlo. Ma la prefazione che lui ha scritto è una prefazione di poche righe ed è una prefazione molto ironica e qui è una prefazione che apre veramente un modo di intendere questo libro, la zattera dell'astronomia. Ma lei quando ha letto Giulia Bignami questa, per la prima volta questa prefazione, che cosa ha pensato? Che era la prefazione perfetta, che non avrei potuto chiedere di meglio. Vero, veramente. Proprio una cosa che ci porta, ci fa salire sulla zattera, perché uno può pensare salgo su una zattera, ma la zattera ha una certa insicurezza, ma le parole di Massimiliano Parente ci danno quella giusta ironia per salire su una zattera. Lei comincia il suo libro Giulia Bignami con una domanda. Avete mai visto un astrofisico e un plasmista costruire una zattera? Io no di certo. No, infatti ci sarà un motivo. A voglia, altro che. Perché la zattera è stata un po' fallimentare, mettiamola così, senza svelare troppo, però è stato per me l'inizio della scrittura, perché anche se la zattera è precaria e, come ho detto, è la sua costruzione di non particolare successo, però poi serve per traghettare il lettore attraverso tutte le altre disavventure del libro. Le disavventure del libro, perché sono veramente disavventure particolari, ma veniamo forse al motivo principale Giulia Bignami che l'ha motivata per scrivere questo libro. E certo, la presenza di due persone come i suoi genitori Giovanni Bignami e Patrizia Caraveo, lei è figlia di due astrofisici, e quindi per quale motivo lei ha sentito la necessità di raccontare la sua narrazione partendo proprio da questo, dall'essere figlia di due astrofisici? Quindi due genitori molto ingombranti per qualche aspetto. Assolutamente sì, è anche un'infanzia molto strana, nel senso che è un'infanzia molto scientifica in cui sono stata trasportata a conferenze e in cui sono stata esposta anche a personaggi che di solito una bambina non incontrerebbe. E in parte volevo condividere queste mie esperienze con l'obiettivo però anche di condividere con il pubblico un aspetto forse meno noto e inedito del carattere, della personalità di mio papà e voleva essere anche un modo per ricordarlo, ovviamente il mio stile ironico. Ma certo perché poi ricordare la figura di un padre, un padre astrofisico, uno quando pensa, se io penso, anzi pensavo perché questo libro mi ha cambiato sguardo Giulia Bignani, se pensavo a un astrofisico lo pensavo chiuso nel suo studio, nel suo laboratorio, a guardare, a guardare il cielo dal telescopio oppure con lo sguardo sul computer. E invece lei ci racconta all'inizio del libro di questa persona che ha visto dei tronchi sulla spiaggia, ma per raggiungere quella spiaggia non è che si dovessero fare semplicemente una decina di passi, si doveva fare qualcos'altro e già lì, e già lì c'è qualche cosa di particolare Giulia Bignani. Assolutamente sì, già lì si notano alcuni dei tratti caratteristici del comportamento di mio papà, che non sono assolutamente quelli del cattedratico a Muffito che sta chiuso nel suo studio, ma appunto sono quello del grande avventuriero ed è un po' il filo conduttore di tutte le disavventure che racconto, nel senso che mio padre appunto era un famoso scienziato e comunicatore scientifico, ma d'estate si trasformava e diventava un atleta disperato e appunto mi coinvolgeva poi in queste sue peripezie che nella maggior parte dei casi non andavano proprio benissimo. Eh certo, non andavano benissimo, però lei un po' si adattava, si doveva adattare alle indicazioni di mamma e papà, quindi... e poi c'era anche una cosa, lei lo ammette, che a lei piaceva andare a caccia di satelliti, no? In estate poi era una cosa che le piaceva parecchio. Beh, è di gran lunga la mia attività estiva preferita, forse non è molto comune, ma la consiglio vivamente perché è veramente molto bella, noi siamo abituati solo in estate, soprattutto a metà agosto, a guardare le stelle cadenti e esprimere desideri, ma in realtà il cacciatore di satelliti è un'attività molto più impegnativa e molto più bella rispetto alla semplice osservazione delle stelle cadenti. Nel libro do i consigli su come diventare il perfetto cacciatore di satelliti e racconto appunto delle mie estati passate con i miei genitori, ma anche con amici e vicini di casa che venivano coinvolti in queste sessioni di caccia, persino la nonna che peraltro non era bravissima. Ma adesso per cercare i satelliti, adesso ci avviamo alla bella stagione, no? Per cui il cielo terzo e così via, ammesso che si possano vedere bene, ecco, che cosa dobbiamo fare praticamente Giulia Bignani? Beh, tanto per cominciare bisogna trovare un posto che sia abbastanza buio. Quindi in montagna per esempio, vero? Per esempio, oppure in paesini isolati e bisogna appunto essere in condizioni di bassissima, in bassissimo inquinamento luminoso e poi deve essere una notte senza luna, perché ovviamente anche quella è un inquinamento luminoso del cielo e quindi bisogna essere bene al buio, senza luna, appunto in estate e il cacciatore di satelliti è sempre sdraiato, non si sta in piedi guardando in su, ma si sta sdraiati e quindi è consigliabile avere asciugamani e materassini, perché poi si sta lì nottetempo e quindi può diventare anche freddo e poi bisogna guardare il cielo e i satelliti sono un po' difficili inizialmente da scovare, perché hanno una luminosità che è simile a quella delle stelle, però si muovono e quindi alcuni si travestono un po' da stelle e bisogna starle a fissare un po' per riuscire a capire la loro rotta e vederli muovere. E poi hanno anche un'altra peculiarità che è completamente diversa rispetto alle stelle cadenti, che è il fatto che la loro luminosità cambia durante il loro passaggio in cielo e questo è dovuto al fatto che la loro luminosità deriva dai raggi solari che vengono riflessi sui loro pannelli solari e siccome il satellite si muove, gira su se stesso, questa luminosità varia in intensità durante la sua rotta e quindi un satellite può essere molto luminoso in un certo punto del cielo, scomparire e poi ricomparire da tutt'altra parte durante la sua rotta e quindi il vero cacciatore di satellite è quello che è capace anche di capire questo comportamento e quasi immaginare dove ricomparirà poi i satelliti in cielo. Giulia Bignami, ma lei va ancora a caccia di satelliti oggi? Sì, 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 quando sono in Italia, sì, quando sono in vacanza, sempre. E adesso torniamo a sorridere perché questo è un libro che ci si deve, ci si ferma nella lettura per sorridere insieme con l'autrice, insieme con questi personaggi, sembra quasi un film, ma com'è possibile Giulia Bignami, un veterinario che si chiami ginocchio, chiamarlo gomito, è un oculista chiamato, che si chiama nebbia, chiamarlo nuvola, dai! Eh beh, perché secondo la teoria di mio padre, in un caso si trattava sempre di articolazioni, nell'altro si trattava comunque di un fenomeno dell'umidità. Eh beh, però aveva la sua spiegazione, sicuramente, la sua spiegazione, ma quanto ha riso lei scrivendo questo libro? Perché questo libro è un repesciage, è un andare indietro nel tempo, è un ritrovare la Madeleine ogni volta, è lì pronta per essere assaggiata. Assolutamente sì, è stato un po' un viaggio nella memoria e la mia volontà appunto di intrappolare questi ricordi perché non volevo perderli e in realtà io stessa non ho riso moltissimo scrivendolo perché per me sono state cose che ho vissuto, per me sono state reali, però mi sono resa rapidamente conto che in realtà erano veramente tragicomiche nel modo in cui le raccontavo, per me in un certo senso sono state la realtà, mentre invece per chi le legge sono quasi dei racconti surreali. Surreale, io non racconto un altro, mi viene in mente, erano andati i genitori a fare una, credo una conferenza, hanno portato a casa un astronauta, credo, e a colazione, e a colazione la domanda, Emanue, a lei, ma non vuoi sapere come gli astronauti fanno pipì? Questa è una grossa fissazione degli astronauti che, come dico nel libro, non mi stanno particolarmente simpatici, però devo dire che chiunque incontra un astronauta secondo me ha vissuto questa terribile esperienza di sentirsi raccontato come fanno pipì, perché è un po' la prima cosa che ti vogliono raccontare quando ti vedono, è un po' come, non lo so, una parte del loro curriculum, non ne ho idea, ma è proprio quello che gli astronauti ci tengono a descrivere. Eh sì, perché questo libro pubblicato da Baldini e Castoldi è un libro che ci racconta poi in sostanza, al di là del sorriso, come gli scienziati siano anche molto umani, perché possono essere, avere i loro momenti nell'essere svampiti, nell'essere, nell'essere poi, che cosa ci racconta Giulia Vignami, nell'essere delle persone veramente normali? Assolutamente sì, o meglio, che cosa è poi normale, ma comunque sicuramente è anche un po' un'opera di normalizzazione della figura dello scienziato, che non è una specie di superuomo, ma è assolutamente umano e, come tutti, ha anche i suoi tratti un po', come dire, strani. A proposito di stranezze, andiamo a cena a Casa Vignami, ci viene offerto il formaggio, per esempio. Sì, questa è un'esperienza traumatica che tantissimi ospiti hanno vissuto, perché mio padre aveva molte ossessioni culinarie, ma forse la sua più importante, alla quale infatti ti dedico un intero capitolo, è quella dei formaggi molto, molto, molto stagionati, molto più di qualsiasi formaggio stagionato che abbiate mai assaggiato. Erano dei formaggi che, alcuni erano forse anche più vecchi di me all'epoca, erano tome valdostane che incominciavano con l'essere tome valdostane e poi finivano con l'essere quelle che mio padre chiamava Nutella, perché poi erano talmente, si sgretolavano talmente che venivano messe sotto grappa e cambiavano completamente stato, diventavano appunto una pasta formaggiosa con un odore terribile, ammoniacale, allucinante. Però, appunto, c'erano tutti dei processi di conservazione negli anni che potevano essere appunto avvolgendo i formaggi in quelli che erano i miei pigiami, per esempio. Perché avevano dei fiorellini che somigliavano a quelli del pigiama. E molto spesso poi questi bendaggi sacri, come li chiamo io, venivano anche imbevuti nel vino per dare quel nosso che in più alla stagionatura del formaggio, ma quella che è stata di sicuro l'ossessione più grande di mio padre è stata il formaggio con i vermi, che è un formaggio illegale nella comunità europea, ovviamente, per buone ragioni. E appunto era un formaggio che viene venduto con dentro dei vermi vivi, che saltellano fuori. E la gestione di questo formaggio era terribile, perché ai vermi vanno una specie di ibernazione quando il formaggio venne tenuto in frigo, ma quando poi lo si tira fuori dal frigo e inizia un po' a termalizzare, arriva a temperatura ambiente, questi vermi iniziano a saltare, letteralmente perché sono dei vermi saltellanti, a saltare fuori dal formaggio. E mio padre diceva che quello era il suo bello, perché poi li devi seguire con il pane e mangiarli. Eh sì, perché Giulia Vignami, io mi sono ritrovato in questa cosa, perché da bambino ho avuto questa esperienza di mangiare il formaggio che cammina, allora che era questa la fascinazione. Non era una fascinazione per chi me la faceva mangiare, ovviamente, ma torniamo, torniamo a guardare in cielo, torniamo a guardare nello spazio e i genitori che erano ricercatori trovano una nuova stella, scoprono una nuova stella, è una stella molto difficile da scovare e quindi c'era un entusiasmo giustamente straordinario perché poi questa stella bisognava bisognava nominarla perché una cosa che non esiste, una cosa che esiste deve avere un nome e allora quale nome dare dei nomi altisonanti, dei codici e anche qui saltava fuori l'originalità. Assolutamente sì, era una stella appunto giustamente molto difficile da vedere perché emetteva solo i raggi gamma, era una stella dei neutroni, quindi era molto difficile, era stata molto difficile per loro da scoprire. Una volta trovata c'era stato grande entusiasmo e quindi bisognava chiamarla e pensare a un nome che fosse evocativo di questa difficile scoperta e siccome è una stella che si trova nella costellazione dei gemelli, gemini e appunto come detto emette il raggi gamma, la decisione sul nome è stata di chiamarla Gaminga che fa un po' il verso all'espressione in dialetto milanese, il Gaminga che indica qualcosa che non c'è e appunto sull'onda di questo entusiasmo tra la scoperta e il nuovo nome per la stella e siccome è successo nel 1990 quando sono nata io, a un certo punto ho rischiato anche di chiamarmi Gaminga io. Ma veniamo a parlare non più di satelliti, di stelle, ma qualcosa che ha a che fare con questo, ovvero la poesia, perché se si andava a trovare i tronchi sulla spiaggia ma non solo, si andava a trovare anche un grande amore per la poesia e questo amore gliel'ha passato suo padre Giulia Vignami? Sì, 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 mio papà ha avuto negli anni una grande vena poetica che devo dire io da piccola non amavo molto perché lui faceva un po' il poeta d'occasione, quindi quando c'erano degli eventi familiari, matrimoni o compleanni, componeva poesie che io poi dovevo imparare memoria e mi dovevo mettere in piedi su una sedia nel centro della sala di fronte agli ospiti a recitarle e questo, come è comprensibile per una bambina piccola, non era una gran bella attività, soprattutto perché dovevo imparare in memoria tantissime poesie, però devo dire che questa cosa per fortuna negli anni è andata a scomparire senza però nulla togliere alla vena poetica di mio papà che ha continuato a comporre poesie ma anche per amici, nel libro trascrivo una sua poesia per il compleanno di Margherita Hack e poi ovviamente anche delle sue poesie di riflessione e anche delle sue poesie dedicate a me. Ma lei ce l'ha il libro portata di mano Giulia? Sì, sì, sì. E allora perché non ci fa ascoltare a pagina 128 la poesia, la poesia che è stata dedicata nel 2012 a Margherita Hack in occasione del suo compleanno? Ehm, sì. 121, non 128. È strano da guardare l'universo, oltre alle stelle e polvere infinita, è pieno di qualcosa assai diverso che non sappiamo, nemmeno Margherita. Forse neutrini, certo cose oscure, materia ed energia, forse anche vita. Grazie a te Marghe per le idee future, ancora da capire, come è normale chiedere a te di renderle mature, nuove scoperte e dirci se son vere, se quel che è vero è scritto dentro il cielo, come vedere può, chi sa vedere. Dacci una mano, Marghe, per piacere, facci studiare ma facci anche sognare e tanti auguri da chi ti vuole bene. E questa era la poesia scritta da suo padre e poi lei ricorda anche, siamo nel periodo dei duecento anni dalla morte di Napoleone e anche qui Napoleone c'entra per il suo 5 maggio, come mai? Eh sì, perché la poesia conclusiva che trascrivo appunto mi è stata dedicata il 5 maggio del 2008. Il 2008, come racconto nel libro, è stato un anno abbastanza complesso. Io ero alla fine del liceo, quell'anno avrei fatto la maturità classica e allo stesso tempo però c'era stato un cambio di governo e quindi mio padre stava vivendo un periodo difficile come presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, sarebbe stato poi a breve cacciato da quel ruolo e da Roma e quindi è stato un po' un anno complicato ma era appunto l'anno in cui io avevo compiuto 18 anni e quindi avevo poi deciso di trascrivere quest'ultima poesia che appunto mi era stata dedicata per descrivere ancora meglio il rapporto che è l'amore di mio papà. E suo papà che è scomparso alcuni anni fa ed è stato un gesto molto bello nel ricordarlo anche attraverso queste cose che possono essere inusitate ma sono semplicemente il ritratto di un uomo. La figura di sua madre, Patrizia Caraveo Giulia Bignami, in che modo ha attraversato queste vicende sicuramente originali di suo padre? Beh, ovviamente c'è sempre stata e ha cercato in alcuni casi di contenere un po' la follia di mio papà. Io lo racconto in alcuni degli episodi quando mia mamma cercava di disfodere mio papà dal coinvolgermi in alcune delle imprese più folli. non credo che ci sia mai riuscita in realtà, però appunto racconto anche come lei cercasse anche di essere un po' presente in queste attività come nel caso appunto della caccia dei satelliti di cui abbiamo parlato poco fa, in cui lei però non era bravissima e quindi barava e utilizzava un'applicazione per iPad che permette di vedere le rotte dei satelliti e ovviamente io dico nel libro che questo è un po' come andare a pesca con la dinamite perché non è un modo giusto di andare a caccia di satelliti. Giulia Bignami, autrice del libro La Zattera Astronomica, pubblicato da Baldini e Castoldi e prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo L'igiene dell'assassino di Amelino Tomb. Amelino Tomb, L'igiene dell'assassino, che tra l'altro non è un libro recente. No, no, no. E cosa trova di grande passione nella lettura di questo libro che mi pare sia uscito nei primi anni del 2000? È una struttura che a me piace molto, è un thriller dialogato ed è molto inusuale come struttura e mi piace molto la capacità dell'autrice di rivelare pezzi della trame, pezzi della storia, rivelare i personaggi attraverso questa forma costantemente dialogata, molto incalzante. Amelino Tomb, pubblicata in Italia dalla Casa di Riche Volan, tra l'altro noi oggi pomeriggio dialogheremo proprio con Federica Di Lella che ha tradotto l'ultimo romanzo pubblicato in Italia, gli Aerostati, e dialogheremo proprio nel corso di questa puntata del Posto delle Parole. Intanto grazie, grazie davvero Giulia Vignami e buona giornata. Grazie a voi, grazie a voi.